Edoardo dà della capra ad Antonella, esplode la litigata tra i due, di nuovo Edoardo Donna Maria e Antonella Fiordelisi passano la metà del loro tempo a litigare, cosa che ormai, è nota a tutti, vipponi e telespettatori. E ogni giorno, i motivi che portano i due a litigare, sono diversi. Ieri ad esempio, Edoardo e Antonella, hanno litigato a causa di una frase del romano, che ha dato della capra alla sua fidanzata. Il motivo? Antonella non conosceva bene una canzone e quindi durante la serata, il Donna Maria si è lasciato andare a questa osservazione. La parola capra, ha mandato in crisi Antonella. Ma è ovvio che ero ironico. Siamo tutti delle capre, perché tutti ignoriamo cose che dovremmo sapere. Però poi c'è chi è un caprone e chi è una capretta, ha provato a spiegare in romano. Ma le parole di Edoardo non hanno convinto la giovane influencer.